Dopo quello del casello autostradale è arrivato un altro diniego. Il soprintendente ai beni archeologici e paesaggistici, Stefano Gizzi, ha bocciato tutte le alternative presentate dal comune di Fano per la realizzazione della strada delle barche. Cioè quella strada che era in progetto già durante il completamento del cavalcaferrovia nel 1995 in zona Sassonia e che serviva da collegamento con il porto di Fano per le aziende della cantieristica rimaste. Lo scopo quindi era quello di trasportare le barche, in particolare dal cantiere navale di Bellocchi, senza dover affrontare tutti gli ostacoli della viabilità. Ma la decisione della sovrintendenza è stata drastica anche questa volta, mandando quasi certamente all'aria ben 900 mila euro di fondi europei che il comune di Fano era riuscito ad ottenere. Fondamentalmente noi abbiamo cercato di concordare due o tre soluzioni. Quindi una prima soluzione prevedeva un ponticello per continuare a vedere tutta l'area del poligono di tiro, tagliando dalla parte più alta dell'attuale cavalcavia verso la pista di carta e poi verso Viale Ruggeri. E' stata allora rivalutata un'altra soluzione, quindi abbiamo ristudiato immediatamente un'altra soluzione che prevedeva un attraversamento a raso invece dell'area del poligono di tiro. Su questa si riteneva potesse esservi un parere favorevole della sovrintendenza, invece con disappunto abbiamo appreso di un parere contrario alla fine di questa soluzione che avevamo valutato alla presenza della sovrintendenza stessa. Però in ballo ci sono ben 900 mila euro, quindi ora che cosa si potrà fare? Ci sono altre soluzioni? L'alternativa a tutto questo è di valutare con la regione se si può evitare di perdere quel finanziamento immaginando e progettando rapidamente un altro tipo di opere.